Ciao amici, oggi impariamo dei strati della terra. Per prima cosa ho preparato questi pallini colorati, poi ho inserito le bangerine con il nome dei vari strati. Quindi abbiamo il nucleo interno, il nucleo esterno, mantello, crosta, acqua e terra. Adesso procediamo a fare il nostro modellino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho realizzato il modellino della terra. Adesso con il coltello tagliamo in due il modellino. Qui possiamo vedere i vari strati della terra. Adesso andiamo a inserire le nostre bangerine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Avete visto come è stato divertente imparare gli strati della terra? Ciao a tutti amici.